L'incidente sulle cui modalità è stata avviata dalla difesa un'apposita inchiesta tecnica aeronautica che si affianca a quella svolta dalla magistratura è avvenuto mentre gli equipaggi, nel pieno rispetto dei previsti standard di sicurezza, erano impegnati in due missioni addestrative congiunte, regolarmente pianificate ed autorizzate in accordo alle norme e alle regole del volo in vigore, finalizzate a raggiungere quei livelli di addestramento che sono essenziali per poter poi operare con efficacia e in sicurezza nelle molteplici attività cui la nostra aeronautica è chiamata per garantire la sicurezza e la difesa del nostro Paese. I velivoli erano efficienti e dalle prime evidenze l'evento appare riconducibile ad una collisione in volo fra i due velivoli le cui cause al momento non sono note ma che potranno essere più chiare una volta che la Commissione tecnica avrà analizzato i tracciati e visionati i dati provenienti dall'apparato di registrazione dei dati di bordo, cioè dalla scatola nera.